Circa un anno fa era andato completamente distrutto per colpa di un automobilista un po' sbadato che a causa di una manovra errata lo aveva ridotto praticamente in pezzi. Adesso è tornato finalmente al suo vecchio splendore, abbellendo di storia una delle zone più suggestive di Biceglie. Parliamo di uno degli argani presenti sul porto, antico strumento di lavoro dei pescatori, restituito alla città grazie ad una gara di solidarietà che in poche ore ha permesso di raccogliere i fondi necessari per restaurarlo, circa 350 euro. Il risultato di un'iniziativa popolare portata avanti dall'Associazione di Promozione Sociale, Io Logico e dal suo presidente Mimmo Cormio. Un po' di tempo fa probabilmente un'erata manovra automobilistica ha distrutto l'argano e il sindaco mi ha contattato per proporre di restaurarlo. Io ho proposto di non fare tesoro della disponibilità delle casse comunali e ho proposto di finanziare il restauro attraverso una raccolta fondi per accorciare le distanze fra il cittadino e il problema da risolvere. Quindi una bella lezione di educazione civica. L'esito è stato sorprendentemente positivo perché in tempi record, in circa quattro ore, è stata raccolta la somma necessaria per finanziare il restauro. L'opera è stata eseguita da un ex artigiano viscegliese in circa tre giorni di lavoro. Ho dovuto recuperare dei materiali adatti alla situazione per poterlo impostare il lavoro. Dopodiché ho cominciato a capire cos'è che stava da farsi, perché per me era una cosa nuova, e ho impostato il lavoro alla mia maniera dall'artigiano. Poi l'abbiamo verniciato, cioè con vernice all'acqua, cioè bullonato in modo che non deve resistere alle intemperie, non deve muoversi da dove viene posizionato e ci siamo riusciti con un po' di sacrifici. Torna al suo posto un simbolo della tradizione marinara, oltre che un pezzo di storia della città che l'amministrazione comunale sta cercando di recuperare. L'importanza di recuperare un argano si rivela incassonata nella bellezza di questo luogo, quindi si rivela una scelta che sicuramente sarà vincente. Come è stata vincente quest'anno la scelta di chiudere questa strada, questo tratto di strada, per poter trasformare un luogo incantevole anche in un posto dove poter ben vivere.